Un saluto a tutti i videoutenti di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Sismel, dal titolo Il dialogo di Caterina da Siena, per una nuova edizione critica, filologia, tradizione e teologia, a cura di Silvia Nocentini, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite perché ci parli di questo interessante volume e quindi come mia abitudine io le lascio subito la parola così ce lo può spiegare. Prego, a lei. Buongiorno, buongiorno e cari saluti a lei e a tutti quelli che seguono questo canale. Dunque, io sono Silvia Nocentini e sono la curatrice di questo libro, quindi non l'unica autrice, ci tengo molto a dirlo perché i lavori collettivi specialmente nel campo della filologia e della storia medievale sono molto importanti, sono fruttuosi, non ci sono più oramai al giorno d'oggi quegli studiosi che si accollano l'eroico lavoro di condurre una ricerca complicata da soli, ma c'è sempre una felice collaborazione quando questo funziona. Questo libro è il risultato di un piccolo convegno di livello seminariale che la fondazione Franceschini in collaborazione con l'Istituto Storico Domenicano ha promosso nel dicembre del 2021. Per fare un po' il punto della situazione, lo status questionis sugli studi intorno al dialogo di Caterina da Siena, che credo tutti sappiano insomma chi è, non ci sarà bisogno di ricordare chi era e l'importanza che ha avuto anche non solo nella storia della spiritualità, ma anche nella storia pure semplice dell'Italia e dell'Italia medievale in particolare, ma non solo e lo vedremo, perché fare il punto proprio sul dialogo. Negli ultimi anni, ma anche decenni, l'interesse per Caterina non è mai veramente sfumato, nei secoli successivi alla sua morte ovviamente, questo per molte ragioni, in particolare perché è stato un personaggio veramente significativo nella sua epoca e che ha avuto molti epigoni, le famose nuove Caterine, le sante vive. Ebbene, negli ultimi anni questo interesse ha portato a un rinnovamento anche dell'istanza filologica in questo senso, cioè cercare di produrre testi critici affidabili delle opere cateriniane. Io molti anni fa, oramai quasi undici anni fa, ho pubblicato l'edizione critica della vita di Caterina da Siena e quindi scritta dal suo ultimo confessore, Raimondo da Capua, che anche lui era un personaggio molto importante, era il generale, maestro generale dell'ordine dominicano, quando scrisse questa ageografia, ma Caterina era anche un'autrice di per sé e in particolare ha scritto una raccolta di lettere molto corposa, o meglio ha scritto molte lettere che poi sono state raccolte e che anche queste sono oggetto di una rivisitazione critica da parte di un progetto portato avanti dall'Istituto Storico Domenicano, ma la Fondazione Franceschini promuove lo studio del dialogo di Caterina da Siena. E una giovane studiosa molto brava che ha contribuito anche con un saggio in questo volume, Noemi Pigini, sta terminando la sua edizione critica del dialogo, quindi ha rivisto tutta la tradizione manoscritta negli anni del suo dottorato e adesso nel post-dottorato, nel periodo post-dottorale, grazie al sostegno appunto di assegni di ricerca, sta concludendo il suo studio critico. Siccome sappiamo che dovrebbe uscire a stampa nell'anno 2025, almeno queste sono, diciamo così, questa è la tabella di marcia che si auspica, venga rispettata in qualche maniera, allora è stato importante fare un po' il punto sulla situazione, perché la ricerca di Noemi Pigini ha portato novità rilevanti, avendo potuto guardare bene la tradizione manoscritta e a questo punto quindi c'è bisogno di contestualizzare il significato di quest'opera. Finalmente potremo leggere quest'opera per come Caterina l'aveva scritta e quindi dobbiamo capire bene anche l'impatto che ebbe e dove si colloca all'interno di una certa tradizione letteraria e spirituale. E per questo è stato organizzato questo convegno, che appunto, come dice il sottotitolo, è stato articolato in tre sezioni. La filologia è quindi la parte più strettamente legata al testo, nella quale ci sono degli interventi. Il primo è di Claudio Lagomarsini, che ha seguito come tutor il lavoro di Noemi Pigini e ha scritto un saggio dal titolo L'orchestrazione della prosa nel dialogo di Caterina da Siena, nel quale appunto analizza le strutture sintattiche della prosa del dialogo, facendo anche un po' un confronto rispetto a quello che possiamo vedere soprattutto focalizzando l'attenzione sulle strutture sintattiche, che era il luogo diciamo critico che era stato un pochino più lasciato da parte dagli studi precedenti, perché il dialogo ha una struttura unitaria e ci dice Lagomarsini proprio inteso per essere letto ad altavoce, inteso come un discorso orale. E questo lui lo dimostra facendo diversi esempi, tratti proprio dal testo del dialogo. Successivamente appunto si trova l'intervento dell'editrice critica del dialogo, Noemi Pigini, che appunto ci racconta quello che di nuovo ha individuato facendo appunto con la sua nuova recensio e poi analizzando la tradizione critica. In particolare è emersa una famiglia importante, la famiglia Gamma, dell'albero stemmatico e solidamente basandosi su questo, su questi almeno due alberi che lei ha riuscita a costruire, ci propone come ha deciso di editare il testo. Infine successivamente, sempre nella prima parte relativa al testo troviamo l'intervento di Francesco Santi che ci parla di come Caterina usava la Bibbia nel suo periodare e di Alessandra Bartolomero Magnoli che invece analizza il linguaggio teologico di Caterina e quindi a quale tradizione teologica lei si ispira e in che maniera sia Santi sia Bartolomei ci dicono in che maniera Caterina porta un'innovazione nella tradizione diciamo scritturale e teologica che sin qui era nota. Perché il linguaggio di Caterina, Caterina è stata un po' dirompente anche per l'uso del linguaggio, l'uso della retorica e adesso capiamo anche l'uso della sintassi e l'uso della sintassi ci può guidare a capire come lei intendeva strutturare il testo e quindi può guidare l'editrice a ricostruire questo testo che è l'intento ultimo diciamo di qualsiasi edizione critica. Alessandra Bartolomei ci dice che senso ha provocatoriamente ovviamente no? Dedicare un convegno e ancora leggere una nuova edizione critica del dialogo. Il dialogo lo sappiamo è stato edito una prima volta nel momento in cui questo servì come pezza d'appoggio no? Per l'attribuzione del titolo di dottore della chiesa a Caterina da Siena ed è quello che appunto nella sezione dedicata alla teologia, al contenuto, ci spiegano la Alexandra Diriart, Clarisse Tesson e anche Gianni Festa questa terza sezione, poi parleremo della seconda, questa terza sezione ci porta nel diciannovesimo e nel secolo e ci mostra come il pensiero cateriniano, perché è dedicata al contenuto a questo punto, il pensiero cateriniano si è rinnovato e progressivamente, ciclicamente direi, è stato riletto per attribuirgli anche o per trovare qualche frutto spirituale che potesse essere sfruttabile nel presente. Bartolomeo infatti lo dice precisamente. Beh, che senso ha nel nostro presente? Un presente, se lo guardiamo, un presente di crisi, tutto sommato, un periodo di pandemia e post pandemia in cui tante certezze sono crollate, nuove guerre e anche nuovi modi di farsi la guerra sono emersi, quindi non solo spiritualmente ma anche intellettualmente, perché rileggere il dialogo? Alessandra giustamente, essendo all'interno appunto al convegno, non rispose a questa domanda, è stato poi nel discuterne, no? Perché non c'è una risposta giusta in realtà. L'unica risposta che ora mi verrebbe in mente sarebbe di dire, beh, anche il nostro periodo quanto a crisi è molto simile al periodo che viveva Caterina, in mezzo a uno scisma, in mezzo a divisioni, lotte, separazioni. La reazione di Caterina è linguisticamente e forse anche teologicamente un po' violenta, tutta fondata sul sacrificio, sul valore del sangue come sacrificio. La nostra risposta ognuno la troverà poi poi leggendo, no? Anche ovviamente sto parlando sempre di risposta dal punto di vista culturale, intellettuale, non è una risposta, anche se Caterina ovviamente ha avuto un valore importantissimo e i tre saggi nella sezione finale lo dimostrano anche per la vita spirituale, sebbene sia stata anche un vessillo di certe politiche di stampo nazionalista che forse possiamo anche leggere in filigrana e in parallelo con altre esperienze vissute o studiate da noi. La seconda sezione invece raccoglie quattro saggi, quattro saggi sulle tradizioni e traduzioni in particolare. Solamente quattro, mi sarebbe piaciuto averlo più allargato ma il convegno fatto nel dicembre del 21 in tempi di pandemia era difficilissimo far venire a Roma tante persone. Ce ne sarà uno in aprile sempre sul tema delle traduzioni cateriniane che spero sarà interessante, quindi la saga cateriniana continua comunque, non smette mai di generare interesse, riflessioni e nuovi spunti anche di riflessione. I saggi, come dicevo, della seconda parte sono sulle traduzioni. Quello che apre la sezione è il mio non perché sia più importante ma perché mi sono occupata anche negli anni passati delle traduzioni latine, essendo io una filologa medio latina, del dialogo di Caterina e queste sono importanti non solo come esercizio di stile diciamo ma soprattutto perché erano la base necessaria nel medioevo e nella prima età moderna per poter trasportare Caterina fuori dai confini, fuori dai confini italiani. E questo perché il latino era la lingua comune universale dell'Europa medievale. di questo si resero conto tardi un po' i discepoli di Caterina perché inizialmente avevano raccolto queste opere, queste sue opere nel volgare in cui lei le dettava ai suoi scrivani e nonché fedelissimi segretari. Ma quando poi con la canonizzazione specialmente di Brigida di Svezia nel 1391 si resero conto che uno dei meriti speciali di Caterina in quanto santa, poiché loro ne ricercavano la canonizzazione ovviamente. Era quello di aver scritto che lei fosse una scrittrice? Allora si dettero da fare per divulgare anche i suoi scritti. Traduzioni di atene ne abbiamo almeno tre, quattro sono note ma una è effettivamente perduta e anche il fatto che nel giro di pochissimi anni una ventina degli anni più o meno fossero prodotte tre traduzioni di un testo la cui lunghezza è considerevole, ci dice molto di quanto fosse richiesto, di quanto fosse necessario, sentito necessario anche. Sulla base di questo testo appunto poi nacquero, furono composte altre traduzioni, in particolare un giovane studioso, sono molto contenta che tanti giovani studiosi abbiano contribuito a questo volume. Nicola Estrafalaces che sta concludendo il suo dottorato in Scozia ci parla appunto della Caterina nell'Inghilterra medievale e ci dice appunto come nacque la traduzione medio inglese del suo dialogo, quindi contestualizza appunto i personaggi che erano coinvolti, come ci arrivò in Inghilterra anche quella è una storia interessantissima e che Nicola sta studiando e sta portando alla luce in maniera molto interessante. E come circolò questo dialogo? Chi erano i lettori, le lettrici del dialogo di Caterina in medio inglese? Poi abbiamo un contributo sulla tradizione spagnola del dialogo di Caterina a cura di Pablo a Costa Garcia, un collega che si è molto interessato negli anni portando avanti diversi progetti alla spiritualità in particolare della prima età moderna delle donne spagnole che finora era conosciuta ma soltanto superficialmente e ha dimostrato con questo contributo che Caterina in realtà il dialogo di Caterina era al contrario di quello che si credeva sinora già molto letto e diffuso non solo come appunto lettura devozionale ma anche come modello a cui ispirarsi per molte di queste donne evidentemente anche letterate che popolavano la Catalogna e la Castiglia medievale. L'auspicio è che anche la zona del Portogallo, dell'attuale Portogallo venga un po' portata alla luce e quindi un po' studiata, un po' più scavata. Infine abbiamo un contributo sul di Piotr Taylus, uno studioso polacco che si è occupato della traduzione francese di Caterina che apparve molto tardi nel 1580 e sembra anche qui ed è un unicum in effetti perché Caterina cominciò subito a circolare in tutta Europa con i suoi scritti, la sua fama santitatis ovviamente. Quindi questa traduzione francese piuttosto tarda è abbastanza un unico ma anche qui con le acquisizioni di cui ci porta a conoscenza Taylus sarà necessario ulteriormente una riflessione ulteriore perché la Francia medievale come anche già un po' Vochet ha mostrato pare essere stata un po' impermeabile alla penetrazione di questi testi mistici e profetici. La profezia in Francia probabilmente nel tardo medioevo, nella prima età moderna non ha avuto molto successo ma qui andrebbe visto perché. Già comunque tornando appunto un po' di partenza cominciare a fare delle domande a questo testo ora che siamo vicini a poterlo leggere in un'edizione critica e già fare delle domande è un passo avanti. Ecco. Beh, c'è di che perdersi. Sì. E soprattutto per gli appassionati ma credo anche per dei lettori normali perché il personaggio di Caterina da Siena è universalmente noto quindi riuscire a leggerne opere come quella trattata in questa edizione credo che la avvicini ancora di più ai nostri tempi. Sì, senz'altro. Io credo anche che appunto il lettore che vorrà avvicinare questo volume, questa raccolta di saggi, possa toccare veramente con mano la ricchezza dell'interesse che si è sviluppato intorno alla figura di Caterina fin da subito da parte di vari ambienti. Abbiamo ambienti colti e letterati, abbiamo per esempio Caterina fu una figura la cui profezia nacque in momenti di grande crisi per la Chiesa che era quello che a lei interessava ovviamente, no? Quindi la cattività avignonese, il ritorno del Papa a Roma, il grande scisma successivo, scoppiato subito dopo il ritorno del Papa a Roma e così via. E lei reagisce violentemente, come dimostra Alessandra, ma non rimane, diciamo così, vessillo di una parte, o meglio, lei era chiaramente schierata dalla parte dell'obbedienza romana, no? Però il suo pensiero, le cose che lei predicava, e la predicazione è un tratto caratteristico della sintassi cateriniana, per come ce la spiega Lago Marzini, ecco, quello che lei predicava diventa in qualche maniera patrimonio comune di molte persone, di molti ordini religiosi, quindi Caterina era una domenicana, una terziaria domenicana, il suo confessore era domenicano, i principali promotori della sua santità e del suo culto erano domenicani, Raimondo da Capua, Tommaso da Siena, che da Venezia dirigeva un po' i lavori dello scriptorium, che copiò decine e decine di manoscritti per poterli diffondere, ma l'interesse, l'amicizia, diciamo così, spirituale per lei, erano un patrimonio comune di molti, i suoi discepoli erano chierici, erano certosini come Stefano Maconi, che fu priore di Pontignano, e poi della futura Certosa di Pavia, prima a Gateniano e poi a Pavia, e poi nell'attuale Slovenia, e anche i certosini promossero moltissimo le opere e la geografia cateriniana, diffondendole in tutta Europa fino ad arrivare appunto nell'Inghilterra medievale. Nell'Inghilterra medievale la tradizione cateriniana entra in contatto con quella legata ai conventi del nuovo ordine fondato da Brigida di Svezia, quasi contemporanea di Caterina, e gli eremiti che lei contattava, appunto il suo epistolario è ricco di queste sue amicizie, o gli olivetani. Ecco, Caterina anche in tempi estremamente divisivi, estremamente diciamo conflittuali, diventa un patrimonio comune e viene poi letta nei secoli, nei decenni immediatamente successivi da persone che si ispirano a lei partendo da esperienze anche in parte o totalmente diverse. Addirittura anche durante lo scisma attori fondamentali della parte avversa, diciamo, della parte avvignonese possedevano, ed è dimostrato da manoscritti, sottoscritti, opere sue, la conoscevano, la leggevano evidentemente. Forse per polemizzare, non lo so, comunque era qualcosa che sostanziava la loro cultura, la loro conoscenza. Ecco, quindi credo che allargare a volte lo sguardo a tutto ciò dentro cui, all'humus in cui nasce un testo e a ciò che ha reso quel testo leggibile, fruibile, importante per secoli a questo punto, è importante anche per noi, no? Anche quando uno poi vuole retrospeptivamente capire qualcosa di più anche del presente o di come affrontarlo, no? A volte conoscire la storia non serve solo a ripetere, a non ripetere gli errori. Gli errori si ripetono in continuazione anche quando siamo estremamente sapienti. serve per capire come affrontare meglio e anche solo per avere una comprensione generale, per essere più, diciamo così, più inclini a conoscere le diverse sfumature e la complessità non solo del mondo ma anche dei testi. Conoscere la complessità dei testi facilita la nostra comprensione del mondo e se siamo interessati al mondo medievale, che era estremamente complesso e che forse nessuno mai riuscirà a ricostruire perfettamente, ma noi ci proviamo con la nostra consapevolezza del ventunesimo secolo e questo ci restituisce sempre anche, non solo una maggiore conoscenza ovviamente, no? Leggendo chi ha studiato diversi testi, diverse tradizioni, eccetera, ma anche una maggiore consapevolezza. Eh beh, direi che a questo punto io devo solo ricordare il titolo, così possono correre le librerie. Il titolo è Il dialogo di Caterina da Siena per una nuova edizione critica, filologia, tradizione, teologia, a cura di Silvia Nocentini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che noi ringraziamo tantissimo per quello che ci ha illustrato di questo volume pubblicato da poco dalla Sismel. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa troverete anche tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora professoresse, a presto. Grazie a lei dell'ospitalità e dell'interesse. Arrivederci.